Saranno le composizioni dell'Orchestra Sinfonica Rossini ad accompagnare la chiusura delle semestre di presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Presidenza italiana che si conclude il 20 maggio e che sarà preceduta sabato 14 maggio da un grande concerto a Bucharest nella Sala Grande dell'Ateneo Romeno. Concerto che è stato presentato oggi nel Comune di Pesaro con l'intervento in collegamento da Bucharest dell'Ambasciatore d'Italia Alfredo Durante Mangoni. Ambasciata che organizza il concerto assieme all'Istituto Italiano di Bucharest alla Filarmonica Giorgio Unescu e all'Orchestra Sinfonica che vedrà sul podio la direzione di Daniele Agiman con l'orchestra al gran completo. Torniamo finalmente all'estero, la nostra attività internazionale riprende dopo l'anno di Covid, riprende con le migliori auspici in una delle sale più prestigiose del mondo, la sala dove suona la Filarmonica Enescu, una sala piena di storia per un evento appunto istituzionale estremamente significativo, la chiusura della semestra di presidenza italiana del Consiglio dei Ministri d'Europa e di fronte a un pubblico tra i più preparati e più attenti e più appassionati del mondo, davvero del mondo. Un grande momento istituzionale che si lega ad una promozione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Abbiamo concordato con la Sua Eccellenza l'Ambasciatore Durante che è il vero artefice di questa grandiosa iniziativa, un programma dove sono rappresentati tutti i maggiori operisti italiani, da Rossini fino a Puccini, proprio davvero tutti, ma con brani non i soliti, quelli che si sentono normalmente nei concerti liricosinfonici, ma brani anche accattivanti e poco eseguiti. Abbiamo due straordinari solisti, c'è l'Orchestra Sinfonica Rossini che è la vera protagonista del concerto, con quattro overture complessissime, Verdi, Rossini e Leon Cavallo, e poi insieme a noi Francesco Anile, uno dei tenori italiani più presenti nel panorama internazionale, da Metropolitan alla Scala, e Emanuela Torresi che è una soprano della zona che abbiamo già valorizzato in precedenza e che è un piacere ritrovare. Grazie a tutti.